rainbow ragazzi cotton rainbow saturn tribute gioco sviluppato pensate un pochettino per siga saturn e poi dopo e poi dopo praticamente portato qui in versione in versione ovviamente moderna facendo un tributo a quella che è praticamente il grande siga saturn che potete vedere la storia qual è la storia di cotton la storia di cotton questa grande piccola streghetta che si trova praticamente a dover compiere dei combattimenti contro alcune avversarie pensate un pochettino avete capito bene proprio contro alcune avversarie tra cui alcune maghette veramente incredibile gioco che riprende la le cosiddette saghe delle maghette del del giapponesi pensate un pochettino abbiamo anche mi sembra la possibilità di inglese no perfetto andiamo a vedere screen setting screen size ma ok massimo in skyline invalide contrast antializing mettiamo una selezione mettiamo un 1920 per 1980 praticamente quindi ce lo portiamo da questa parte qua perché vi voglio far vedere il gioco nel suo massimo splendore avete capito bene ecco qua visit valide quindi ve lo godete grave gigante praticamente ve lo godete proprio gigante iniziamo quindi a giocare andiamo a vedere nelle opzioni che cosa che cosa è presente perfetto normal type team players abbiamo ovviamente la possibilità di mi sembra aumentare fino a tre changes 4 i bottoni bottoni abbiamo i bottoni per sparare per avere l'azione per caricare il tell you praticamente audio stereo free play faccio potremmo fare quasi un free play praticamente ragazzi in modo da arrivare praticamente alla fine del gioco iniziamo quindi a giocare questo fantastico sparatutto uscito nel 1998 cotton boomerang uscito su siga saturn oltretutto console veramente fantastica 32 bit abbiamo due quattro sei otto streghette vedete ragazzi ogni streghetta alle sue al suo modo di attaccare pigliamo proprio la mitica cotton come supporto pigliamo l'abbia l'amichetta ecco qua perfetto e andremo adesso a vedere che cosa che cosa ci riserva questo sparatutto veramente bellissimo per siga saturn e poi portato ovviamente sulle console moderne guardate qui che gioco ragazzi incredibile abbiamo la possibilità quindi di andare quasi a vedete ragazzi andare praticamente qui sopra a utilizzare le varie magie le varie magie praticamente di cotton vedete un pochettino pigliamo questo mitico bonus guardate la morte che arriva gioco veramente fantastico ragazzi attenzione perché possiamo anche combattere vedete ragazzi da dietro veramente qualcosa di assurdo animazioni di altissimissima qualità attenzione guardate qui che grafica ragazzi guardate gli animali gli animali qui sotto come sono fatti veramente stiamo parlando di un gioco il drago il drago di cotton veramente fantastico guardate pochettino qui sopra il drago il drago contro cotton mamma mia ragazzi veramente incredibile vedete un pochettino l'ha bruciato l'ha bruciato è riuscito a bruciarlo ma addirittura vado qui sopra a cercare di distruggere il mitico guardate il mitico pentolone il classico pentolone il classico pentolone di cotton praticamente il pentolone della strega il gioco ci permette anche vedete attenzione attenzione a questa parte qua perfetto possiamo aumentare lo cerchio il cerchio ci permetterà praticamente di aumentare quelle che sono le nostre grandi le nostre grandi ragazze attenzione alla tisanella ecco qua vai col drago di fuoco veramente qualcosa di assurdo graficamente alessandro arcangeli quando si parla di retro gaming non possiamo parlare di alessandro arcangeli col gorillone il gorillone è arrivato il gorillone mamma mia pete sto pigliato sto drago di fuoco pratica mamma e questo ti lancia di tutto e di più carissimo alessandrino arcangeli cotton cotton boomerang il videogioco saturn tribute te lo ricordi il sica saturn quello che tanto ti piaceva alessandro arcangeli possiamo addirittura fregare ci le armi e sono arrivate loro praticamente le nostre mitiche le nostre mitiche mamma mia colpa in testa praticamente vedete un pochettino con le nostre mitiche con le nostre mitiche praticamente streghette addirittura questo glielo prende è certo è certo che vado a continuare che faccio posso scegliere vedete ragazzi le altre mitiche amiche ed eccole qua praticamente sono arrivate loro sono arrivate loro colpo del drago di fuoco qui è di sto mega drago di fuoco perfetto la bambina ma praticamente qui sopra a prendere di tutte di più ho preso anche un livello è arrivata tina vapore ragazzi salutiamo tina vapore ti time praticamente dobbiamo andare a distruggere tutte le tazze date per prenderle per prendere perché ci fa bene il tè il tè verde ovviamente il tè al limone ve lo mamma lo mangiavate ragazzi il tè al limone ecco qua è questo ovviamente il tè time il bonus del momento con questo incredibile con questa incredibile streghetta veramente fatto come si deve ragazzi con la signorina la signorina femmina di alessandro arcangeli praticamente molto molto bello dobbiamo dire la vita cotton che ci dice quante si bello quante si bella va bene signori cotton boomerang riprendiamo ovviamente la nostra mitica live scusate avevo un messaggio da leggere dal punto di vista lavorativo è incredibile il giocherellone andiamo avanti da questa parte qua come potete vedere che sta arrivando sta arrivando mamma mia ragazzi la mitica la mitica streghetta che la mitica streghetta che sempre qui praticamente con noi attenzione al colpo del drago possiamo fare questi colpi praticamente vedete un po che guardate guardate quel il coso il coso praticamente come si chiama lo zuccone lo zuccone di papà lo zuccone di papà incredibile 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 da avere attenzione al come si chiama al vespone a giulio vespone a giulio vespone ovviamente possiamo anche con il colpito vedete da dietro e poi fare una un prendi arma praticamente possiamo sottrarre l'arma al al nostro incredibile al nostro incredibile vai col rimbalzo assurdo con il nostro incredibile avversario quindi una cosa molto molto bella level il bonus app praticamente pieti sta palla di drago mamma mia col drago veramente fai qualcosa di assurdo vedi che cosa sta succedendo fra poco vedete un pochettino potremmo addirittura forse cambiare vai col drago che ti arriva praticamente direttamente in faccia addirittura pigliamo level up piedi alla maghetta è tornata è arrivata belle sebastiene belle sebastiene stiamo attenti a queste parti qua attacchiamo ovviamente questi mitici amici praticamente vedete ciao come stai cristian da te d'attero caro cristian come stai sto molto molto bene sto giocando a cotton ring bov a cotton boomerang scusami il gioco delle maghette il gioco delle maghe dei ghetti vai col drago di fuoco questo è difficile caro carissimo cristian carissimo che mamma mia mi ha fatto saltare la maga mi ha fatto saltare la maga ovviamente andiamo a giocare perché abbiamo messo il free to play andiamo a selezionare gli alle altre praticamente maghette e guarda qui che è arrivato il fantasmino hai capito bene il cappello il cappello fantasma il cappello da fantasma della strega capiamoci ovviamente questo altro elemento e che questo questo tira i pugni tira i pugni assurdo davvero mamma mia è assurdo davvero piedi sto guarda che caccia il drago il drago della giornata il drago della giornata siamo attenti a questa parte qua abbia già distrutto già la nostra mitica maghetta addirittura la fatina la fatina la fatina piccolina praticamente la fatina piccola che purtroppo muore quasi subito è arrivata la maga nera la maga nera che ti butta un drago di fuoco addirittura veramente fortissimo questa maga nera ragazzi un gioco molto 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 difficile vedere un pochettino cerco di prenda è stata distrutta un gioco abbastanza difficile dobbiamo dire la verità andiamo a scegliere quelle che sono le nostre maghette incredibilmente eccolo qua ecco qua quanti anni hai che la prima volta che sono in una lavia io ho ben 45 anni il giocherellone infatti è un super appassionato di videogiochi fin dalla tenere età di cinque anni quindi ho ben sono 5 40 anni penso che sono appassionato di videogiochi caro cristian dattero ma io mi ricordo già sto cognome cristian dattero forse sono io che diciamo mi illudo mi illudo di conoscere il cognome comunque sei molto bravo ti ringrazio cristian dattero sono 40 anni che ho la passione per i videogiochi i videogiochi mi hanno insegnato anche l'informatica per via e traversa e la computer grafica addirittura la musica penso un pochettino e addirittura anche diciamo l'architettura pensa che il mio primo videogioco di urbanistica il mio lavoro principale fare l'architetto il mio principale che ti volevo dire gioco di urbanistica è stata sin city sin city proprio mi ha aperto mi ha aperto mi ha aperto gli occhi verso l'urbanistica è arrivato villi il mitico villi caro villi ciao come stai buongiorno a te benvenuto sul canale giocherellone il canale del tuo grande amico colui che ti porta i videogiochi i più belli del passato e del presente il drago verde addirittura willy pensa un pochettino addirittura posso posso tirare un bambinino un bambino praticamente qui sotto nel grande cestellone onorato servizio onorato servizio di 40 anni 40 anni mi ricordo c'era un mio collega mio ex collega che dicevo ho fatto 40 anni di onorato servizio peccato che quell'onorato servizio facesse schifo ecco qua dobbiamo dire la verità mi dispiace mi dispiace di questa cosa qua e lui non era nemmeno tanto diciamo ligio al dovere capisce a me alessandro arcangeli faceva 40 anni di onorato servizio sì però bisogna vedere suo servizio come l'hai fatto va bene ecco qua avete capito bene avete capito bene come quel signore onorato servizio capite che aveva fatto cosa faceva vicino a noi aveva più esperienza di noi da un punto di vista lavorativo e diceva dal punto di vista della presenza all'interno del diciamo del di dove mi trovavo ma lui diceva io adesso sto per andare in pensione ho 40 anni di onorato servizio sì però che hai fatto in questo 40 anni 40 con questi 40 anni di onorato servizio cosa hai fatto e come era stato su onorato servizio capisce a me capisce a mio onorato servizio ecco qua di dove sei io sono di origine napoletane ma vivo in valtellina pensa un pochettino carissimo cristian d'attero cristian d'attero non lato servizio che ne pensi del duce del duce sicuramente è stato un ottimo un ottimo statista inutile puntare puntare il dito contro mussolini solamente perché ha portato l'italia praticamente ad avere le leggi razziali ad avere praticamente i ghetti ad avere praticamente a portare l'italia in guerra è una forma ovviamente di larità oscura quasi ecco qua sicuramente non è non è il mio modo di dire non ha non è sicuramente una persona democratica e quindi tendenzialmente voleva imporre il suo modo di pensare si è trovato anche sicuramente in una brutta situazione a dover scegliere in merito al fatto di dell'italia in guerra a dire o siamo sotto i tedeschi o siamo con i tedeschi e quindi posso anche capire dal punto di vista dell'essere statista così come o siamo con la chiesa cattolica o siamo contro la chiesa cattolica quindi è una parte sotto il piano dell'essere statista posso capire posso capire determinate scelte che forse avrei fatto anche io ti fai schiacciare dai tedeschi oppure oppure stai con loro stai con i tedeschi ecco qua da un punto di vista delle leggi razziali sicuramente non sono non sono non sono molto diciamo non sono non sono totalmente d'accordo e nemmeno dal punto di vista della dittatura informativa dell'informazione eccetera quindi che essere esatto bravo esatto bravo c'è amico ti ricordi me certo il mitico brian inter come stai cristandate che squadra tifi ma a me il calcio piace più giocarlo piace più giocarlo che vederlo che squadra tifo ma sarò forse diciamo ancora legato al mio territorio di origini ovvero a napoli ovvero a napoli quindi tendenzialmente tifo napoli ecco qua quindi sicuramente se devo fare una squadra di calcio tifo il napoli era romagnolo per ed appio che il mitico il mitico duce buongiorno adesso sono uscito da scuola il mitico fan dei calciatori che grandi giochi ti sei perso stamattina ma non ti preoccupare c'è anche la canzone di fortnite è stata fatta stamattina la canzone di fortnite finalmente uscita grande richiesta me l'avevate chiesta la canzone scritta da me di fortnite mixata da me andatevelo a vedere nella sezione video o meglio andatevelo ad ascoltare nella sezione video ma lavorare ma io il mio lavoro principale è fare l'architetto giuseppe mirabello in s de paolo ciao amico br ciao amico br giuseppe ciao des de brasil dice ines in essa alessandro arcangelo ciao amico il mitico ines penso un pochettino incredibilmente e continuiamo a andare avanti questa mitica storia del siga saturn del siga saturn e attenzione ovviamente al pipistrellino ecco qua e quindi dobbiamo stare molto molto attenti guardate un pochettino qui sopra che grandi animazioni che grandi gioco sul nuovo volantino trovate offerte buone no alessandro arcangelo abbiamo proprio la cucina che sta esplodendo di cibo oltretutto molto di questo cibo è in forte scadenze quindi dobbiamo consumarlo altrimenti lo andiamo a buttare e diciamo preferiamo essere economi o meglio non spreconi perché comprare altro cibo se ne devo mangiare altro ma quanti giochi ai cristian dattero sono un collezionista di videogiochi se vane sul mio canale youtube puoi vedere la mia collezione di videogiochi soprattutto negli short ma tendenzialmente clicca con la sulla piccola clessidra clicca sulla piccola clessidra e vedi collezione di videogiochi scrivi collezioni videogiochi alessandro ciao sul nuovo volantino è trovato belle offerte quindi ho visto qualche cosa ma ci sono le cose che tendenzialmente noi compriamo sono sempre cose abbastanza vegane e come ad esempio come ad esempio il riso e legumi l'avena la pasta solo la giocherelluna mangia ogni tanto un po di formaggio sulla pasta però io in genere preferisco proprio mangiare solamente vegetali fante calciatori vero vero e così sia alessandro arcangelo ciao inese carissima chissà romeo ciao 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 come stai dopo mi metti come moderatore fante calciatori noi abbiamo una chat dove ci sono anche gli altri moderatori quindi devi presentare la candidatura sulla chat discord poi il tutto verrà messo ai voti e quindi ovviamente ovviamente possiamo possiamo scegliere di votarti o meno come moderatore o da meloni in offerta o da meloni in offerta ovviamente la mitica meloni la nostra presidentessa o presidente della della del consiglio penso un pochettino incredibilmente che da fra poco dovrebbe essere in visita a pozzuoli viso stamattina altra scossa nei pressi di pozzuoli nei pressi di posto di pozzuoli e dobbiamo dire la verità dobbiamo dire la verità ma c'è qualcosa di veramente in cattenzione sovrago c'è qualcosa di veramente incredibile in creatazione a questa persona a questo personaggio simpatico non c'ho disco è fan dei calciatori come fai a fare il moderatore se non hai i mezzi che non se non è i mezzi praticamente per fare il moderatore i mezzi per fare il moderatore sono sicuramente legati alla maggior parte delle apparecchiature informati quindi non posso farti il moderatore se non posso poi dopo comunicare con te visto che ovviamente con tutti i moderatori io vado a comunicare anche alessandro arcangeli e moderatore ci mancherò il capo newser della sezione discord quindi si può dire che il canale di scorda anche se intestato a me è gestito praticamente ad alessandro arcangeli quindi penso un pochettino come si fa senza senza avere gli strumenti a fare il moderatore quindi come come si può fare quindi non è possibile sicuramente infatti la maggior parte dei moderatori pino shooter gasmizzone il grande il grande coso come si chiama alessandro arcangeli hanno tutti quanti ovviamente i principali strumenti di moderazione visto su dragone con quattro davvero ecco qua comunque dice cristian d'attero comunque dalla voce mi sembra che è tipo di meno di 40 ma sembra che ne hai 25 no no cristian d'attero non fumo e raramente bevo birra e vino quindi no no non è così ho ben 45 anni pensa un pochettino puoi verificare tu stesso andando a vedere all'interno dei miei video praticamente ci sono i link ai libri pubblicati su amazon dei miei libri pubblicati su amazon c'è scritto vita morte e miracoli del giocherellone pensa un pochettino meloni a meloni per stavo giorgia meloni meloni è un euro e 50 lì dobbiamo pigliare è buona buona la frutta fa bene ricca vitamine minerale e tante proprietà ecco qua cristian d'attero anni io 45 anni ha solo modellatore non lo sapevo non sei se siamo detto se il capo news era alessandro arcangeli capo news nella sezione della sezione discord penso un pochettino pito sto drago in faccia e visto sto drago guarda qua guarda sto drago mante gramame il drago se n'è andato il drago se perché abbiamo un tempo per distruggere ragazzi non avevo non so se lo sapete sta cosa abbiamo un tempo per distruggere tutto questo bene me ne devo andare ci vediamo dopo ciao caro fan dei calciatori dopo ci sarà un gioco per te un gioco legato associato pensa un pochettino a che cosa al giocatori di calcio quindi alle grandi partite di calcio andiamo avanti andiamo avanti ciao sono riccardo valentina vada la vada la valentina valentina vada la ecco qua grande valentina cristian d'attero ok 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 perfetto andiamo avanti ragazzi gioco uscito questo su siga saturn ma anche in sala giochi oltretutto questa è la versione saturn tributo che ha tutte le migliorie della versione siga saturn gioco veramente bellissimo che poi dopo ritroverete sul canale nella sezione video ovviamente per chi ha disco a twitch vi consiglio sicuramente di vedere la live quasi sempre da twitch e poi ovviamente vedete voi che cosa fare non è un problema ci mancherebbe questo perché a volte vi perdete una grande qualità però alcune persone come per esempio il caro alessandro arcangeli vuole vedere vuole visionare la live direttamente dal cellulare ciao fan dei calciatori salutiamo tutti il caro fan del calciatore che si è candidato a essere moderatore del canale del giocare lune poi metteremo i voti i voti con pino shooter con alessandro arcangeli addirittura guarda qui sotto che cosa esce alessandro arcangeli ecco qua pino shooter il gas smizzone tutti quanti grandi moderatori in passato c'erano anche altri moderatori poi purtroppo sono stati eliminati perché hanno avuto dei comportamenti non legge non legge lo sai questo sai cosa significa comportamento non legge ovviamente ragazzi molto molto difficilotto diciamo questo questo spara tutto con la mitica cotton praticamente colpo del dra addirittura la strega e torna a pigliare questo dragone umano praticamente guarda il dragone umano che ovviamente qui sopra va qui sopra essere attaccato e fa paura è arrivato bombolone rabbit magazine è arrivato il mitico rabbit magazine ragazzi attenzione a questo bombolone è veramente difficile veramente difficile oltretutto pensate questo gioco nasce in sala giochi veramente qualcosa di assoluto attenzione attenzione al cervellone è arrivato rabbit rabbit magazine christian dattero poi ti volevo dire che io sono abbastanza piccolo undici anni vabbè christian dattero questo canale è un canale che non tratta tematiche per tratta tematiche per tutti quindi non non c'è un limite di età certo sicuramente non lo so se ti può far piacere stare su un canale dove comunque i videogiocatori sono non sono che non è un canale per bambini sicuramente sicuramente non è un canale per bambini però però un canale che ti posso dire un canale dove non si ne è di certo non è che si affrontano discorsi per adulti si parla in primis di videogiochi canale nuovo piacere di conoscere caro rabbit magazine buongiorno a te come stai benvenuto sul canale del giocherone il canale il canale dove si parla della storia del videogioco hai capito bene oggi ti porto come tu ben sai perché sicuramente sei molto esperto in questo il mitico cotton boomerang cotton boomerang questo perché ovviamente in questo gioco possiamo prendere gli oggetti e buttarli via veramente incredibili guardate qui l'essere di fuoco praticamente il demone di fuoco veramente incredibile ragazzi è fortissimo e così versamente giovane sì io avevo 45 anni caro rabbit magazine rabbit magazine che giochi ti piacciono che giochi ti piacciono mi fai capire che ovviamente tu sia tu sia un grande un grande esperto di videogiochi addirittura mi si stava accendendo il fondo schiena ecco qua veramente brutto 52 quest'anno allora mitico rabbit mi devi dire quali sono i tuoi videogiochi preferiti i tuoi videogiochi preferiti perché così il gioco dell'uno te li porterà caro rabbit magazine quindi vogliamo dedicare fra poco un grande un grande videogioco a rabbit magazine quali sono i videogiochi agli a rabbit magazine che ti piacciono praticamente aia perché io li ho fatto lo squattono perché sto invecchiando e quindi mi fa male il gluteo il grande gluteo pensa un pochettino che giochi ti piacciono vediamo un pochettino rabbit magazine te li voglio dedicare visto che ti sei iscritto ogni nuovo iscritto sul canale giocherellone sapete già che cosa un videogioco con video dedica io iniziato con il tv pong della rel ma sono affezionato alla t 91 m6 i miei computer del cuore allora ti porterò un gioco per ms x avevo in studio praticamente in programma praticamente quello di portare i titoli più belli per ms x non tutti ci mancherebbe dobbiamo fare una selezione altrimenti ovviamente giocherebbe prima o poi morirà non ci sarà più e quindi giustamente ti devo far vedere in primis la maggior parte dei titoli belli e ovviamente caratteristici quindi non posso portare tutti i giochi del mondo pensate un pochettino sicuramente ti posso consigliare questo cotton boomerang saturn tribute che la versione migliore di cotton boomerang che ci sia ovvero la versione pc nintendo switch playstation 4 playstation 5 e xbox può essermi sembra giocato anche sul nintendo 3ds e addirittura sul nintendo wii u veramente ben fatto che si casato un console spettacolare inutile che ci giriamo antonio mi piangeva sì mi piace sicuramente mi piange sicuramente il cuore nell'averlo visto aver visto morto il siga saturn e anche il dreamcast forse più siga saturn sono ancora oggi un m6 chiuse sul programma sul t 99 e allora ti devo portare un gioco per mx come si deve rabbit magazine nel caso purtroppo il saturn l'ho saltato e mi e lo so e quella è l'epoca 32 bit dove appunto le console con savano non poco le nuove console con cd rom in realtà come tu pensai la primissima console cd rom stato neanche per cingere in cd una console spettacolare sicuramente superata dalla sony playstation da siga saturn senza alcun ombra di dubbio però è comunque una cosa spettacolare allora mi sono iscritto grazie cristian dattero dimmi un pochettino tu anche qual è il tuo videogioco preferito e te lo porterò se ti piace fortnite vai sul canale youtube del gioco del lune sezione video e c'è la canzone di fortnite in italiano a breve ci sarà anche una canzone in inglese proprio per a livello international quindi rebe in questo gioco comunque l'ho visto diverse volte l'ho portato vedo alcuni mesi fa lo ha portato sì 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 ma in realtà per per le nuove console compreso il pc è uscito tutta la serie di cotton fino a cotton rainbow che ho portato oltretutto la scorsa volta quindi stiamo andando a ritroso con gli episodi e perché questo perché la siga sta rivendendo i suoi prodotti in un nuovo formato tendenzialmente e detto questo quindi sta portando ovviamente il gioco della success che ovviamente era la vecchia casa che faceva oltretutto puio puio se ben ricordo alessandro arcangeli dicevo il moderatore deve essere una persona retta serie molto di intelligente o fa danni e lo sappiamo lo sappiamo già che cosa è successo in passato col critica la poi adori giochi in stile anime e allora con questo ci vai a nozze anzi secondo me è meglio questo cotton boomerang piuttosto che cotton rainbow perché cotton rainbow e tridimensionale una buona rivisitazione degli sparatutto con la visuale posteriore quasi in terza persona e cioè proprio in terza persona mentre questo è ancora bidimensionale una grafica bidimensionale di altissima qualità però abbastanza difficile come potuto vedere va bene ragazzi che dirvi il vostro giocherone va a mangiare vi ringrazia per la visione se volete seguirlo mi fa piacere youtube e twitch sono i principali social network giocherone dove potete iscrivervi attivate le varie campanelline per avere notifiche abbonarvi gli abbonamenti su amazon prime sono gratuiti se avete appunto amazon prime tramite appunto twitch mentre su youtube partono proprio da un euro quindi un gesto simbolico per supportare il canale avete tante altre migliorie detto questo gli altri social network giocherone sono vari whatsapp telegram e scorda pagina facebook e blog tiktok instagram tweet triz e pizze lizz e in più se volete comprare uno dei 207 gadget del giocherone lo potete fare box informazioni poi negozi volete comprare giochi come questo a prezzo scontato box informazioni poi link a instant gaming volete comprare i libri scritti da me sono disponibili su amazon cliccate all'interno della descrizione del video troverete i link che vi riportano su amazon questi libri oltretutto non potete solamente comprarli ma anche leggerli gratuitamente se avete amazon cadono a limited reddit rabbit magazine ho messo segui con molto piacere mi fa piacere ti dedicherò oggi pomeriggio o domani un gioco per ms x attraverso la selezione dei giochi più belli christian dattero ciao christian dattero fammi sapere anche tu ovviamente che ti sei scritto qual è il gioco che vuoi che ti porto ragazzi io vi rimando e vi dico questo perché la sto ballando da stamattina andatevi anche a vedere il video della canzone di fortnite che per quanto sia un gioco sicuramente per giovani quindi rabbit non so se ovviamente a te possa piacere a me è piaciuto a me è piaciuto perché forse non ci avevo mai giocato quel tipo di gioco ha anche delle musiche molto particolari infatti ho creato una musica scritta da me e impostare mixata da me molto bellina andate a vedere fortnite allora oggi io gioco di tutto e fa bene goditi i videogiochi finché hai la possibilità di goderteli se i videogiochi sono una delle passioni tendenzialmente meno distruttive che ci possano e possano essere grazie mille per la visione ragazzi detto questo ci vediamo più tardi con altri video games ciao a tutti al vostro giocherellone ciao cari ciao